Salvatore 1-0 Salvatore 1-0 Che c'è? Ho un succhiatto per caso? Professore, ci diamo la bossa? Harley! Ciao, baby Uccidila! La sua capsula è riservata! Andiamo, baby Deadshot! Spara subito a quella donna! Non mi ha fatto niente di male Sei un sicario, no? Ti offro un contratto Uccidi Harley Quinn Per la libertà tua e di tua figlia È già morta Oh, che occhio, che succhia! Non mi ha detto... L'ho mancata. Hai fatto bene. Sono Waller. Salvatore 1-0 è stato dirottato. Abbattetelo. Ricevuto, signora. Lo tiriamo giù. Martin! Sei così elegante per me. Farei qualsiasi cosa per te. A proposito, c'è succo, duva con ghiaccio e una calda pelle d'orso che ci aspettano. Sì? Gabbo, abbiamo un problema! Questo fringuello arrostirà. Ok, tesoro. Tocca a noi. Facciamolo! A presto. O马na. A presto. A presto. A presto. Oh, 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 oh.